Oggi è un appuntamento speciale per Medicina Oggi, siamo in un luogo suggestivo, sicuramente siamo in un vero e proprio piccolo hangar, qui alle mie spalle vedete un elicottero, un elicottero importante per Verona, per la provincia di Verona, l'elicottero di Verona Emergenza e allora andremo a conoscere colui che coordina l'attività di Verona Emergenza, il nuovo direttore, al momento ancora facente funzioni di questa bella realtà che è Adriano Valerio, io mi avvicino, è qua che ci aspetta perché da poco insomma che è il nuovo direttore di questo centro molto molto importante che adesso andremo piano piano a conoscere, a cominciare anche da questo mezzo incredibile con il quale i tecnici, con il quale i medici operano appunto come dicevo in tutta la provincia, in tutto il territorio, innanzitutto le chiedo e le faccio anche le congratulazioni, come nasce questo servizio, come nasce il 118 Verona? Ma il 118 Verona ormai ha una lunga storia, nasce ormai più di 30 anni fa con quello che sono state le piccole risorse iniziali che poi le persone durante gli anni hanno fatto crescere fino a quello che siamo abituati noi come cittadini a vedere oggi in giro per la città, in giro per la provincia. Ecco è un servizio che chiaramente negli anni, nel corso degli anni si è sviluppato, continua anche a svilupparsi, chiaramente giusto qualche giorno fa abbiamo assistito alla consegna per esempio di una speciale barella della quale parleremo anche, come è cambiato, come sta cambiando questo lavoro? Sta cambiando direi in un'unica direzione, stiamo cercando di portare, negli anni si è cercato di portare sempre più il medico, quindi l'ospedale a casa del cittadino. Se una volta si cercava di portare più velocemente possibile il paziente verso l'ospedale, adesso la professionalità di chi sale sui mezzi, che sia su gomma che sia con l'elicottero, è cresciuta così tanto che le prime cure, soprattutto le manovre salvavita, vengono tutte fatte a domicilio del paziente. Ecco, come parlavamo anche qualche giorno fa, lei mi diceva che le sfide chiaramente sono tante, l'obiettivo centrale è sempre uno, il protagonista principale della vostra missione, perché è un po' una missione, insomma è una sola, cioè il cittadino, il paziente che ha bisogno. Assolutamente sì, cioè il centro, se noi perdiamo di vista il centro, la funzione nostra che è il salvare la vita, cercare di salvare la vita, noi perdiamo la nostra mission, la nostra mission è proprio quella di essere sempre più preparati e pronti per risolvere il problema del cittadino che in quel momento lì ha avuto il problema. E questo passa per forza di cose attraverso un canale, insomma, cioè la continua formazione e il continuo aggiornamento degli operatori. Questo assolutamente sì, per avere la possibilità del cittadino di venirne fuori dalla sua patologia, dalla sua situazione, bisogna che il personale che lo incontra durante questi momenti di sofferenza sia il più preparato possibile, ma che soprattutto questa sua preparazione sia costante e periodica. E questo è un punto forte, fermo di questo servizio qua della centrale operativa. La formazione passa attraverso sì corsi residenziali, ma passa verso, o attraverso meglio ancora, una formazione sul campo, quindi un costante aggiornamento che porta ad essere sempre più preparati e aggiornati per risolvere i problemi. Facciamo un po' una panoramica generale, insomma, di quanti uomini compongono questo 118 e dopo magari entriamo anche nello specifico dei mezzi, insomma, che voi utilizzate. Allora, la centrale operativa, che è un reparto dell'azienda ospedale di Verona, attualmente è composta da tre medici, 22 infermieri più il coordinatore, che coordinano tutti i mezzi che sono disposti nella provincia di Verona a servizio del cittadino. Allora, quali sono i criteri di uscita, insomma, del mezzo? Nel senso, quando arriva una chiamata, voi cosa valutate, come lo valutate, anche in base alla tempistica che dovete utilizzare? Allora, il tutto nasce proprio dalla chiamata. Un cittadino ha bisogno, chiama e compone l'118, quindi il numero mai classico dell'emergenza sanitaria. Lì trova la risposta dei 22 infermieri, che sono infermieri preparati, professionalmente aggiornati e formati, proprio per poter cogliere dalle parole del cittadino la gravità dell'evento. Quindi localizzano dove è l'evento, ma soprattutto vanno a codificare la criticità del paziente. E su questo danno risposta inviando il mezzo più vicino e più idoneo per la patologia che hanno codificato. Quali sono i casi in cui si, insomma, predilige l'utilizzo dell'elicottero? Quali sono le scelte, insomma, che voi fate per utilizzare questo mezzo? Allora, l'elicottero ha a bordo una componente con un medico infermiere, quindi uguale a quelle che sono le automediche, da un punto di vista sanitario. Certamente l'elicottero ha una possibilità di arrivare in punti, diciamo, lontani dall'ospedale, in punti impervi in un tempo molto, molto minore. È logico che un soccorso sul baldo deve per forza necessariamente essere fatto con l'elicottero. Ecco, quali sono i tempi di percorrenza e di arrivo da qua, che ne so, appunto al baldo, lago di Garda, nelle zone magari un po' più impervie? Allora, adesso c'è da modificare eventualmente, da valutare anche sulla parte meteorologica, però normalmente da qua, quindi lungaggi a tiraglio alla piazzolla di Malcesine, sono intorno ai 12-13 minuti. Se andiamo dall'altra parte opposta, verso il Carrega, sono altri 10-12 minuti di percorrenza. Allora, lei è da poco direttore, facente funzioni, in attesa, insomma, della nomina ufficiale, possiamo dire così, lei è da sempre operativo e mi diceva anche prima fuori telecamera che lei non rinuncerbbe mai, insomma, all'operatività perché poi alla fine sale del suo lavoro. Certo, io sono adesso da sei anni in centrale operativa, da quattro sono operativo sull'elisoccorso e per me l'essere medico si esprime anche e soprattutto al servizio della persona che ha bisogno, mettendo, fra virgolette, proprio dando una mano alla persona e quindi avere anche il contatto, poter portare la professionalità di medico verso le persone che hanno bisogno. È un incarico, ovviamente, di grande responsabilità, quindi onori e anche oneri. Ci sono aspetti che in qualche modo la spaventano, che la preoccupano, nonostante, insomma, lei conosca già questa realtà da tempo. Insomma, tutte le cose che devono essere coordinate, quando le hai in mano e devi fare delle scelte, sai bene che le scelte possono dare delle risposte a volte positive, a volte meno positive, sia per quello che riguarda chi ti segue e tutto il personale. Spaventa forse no, direi che forse è più capire l'importanza di poter coordinare un gruppo così ampio, perché teniamo presente che non è solo quel numero di persone che vi ho citato prima, che sono proprio del 118, ma il servizio soccorso territoriale si compone anche di una serie di associazioni che sono in convenzione con noi, che mettono poi a disposizione i loro mezzi, la loro personalità per andare a soccorrere il cittadino. Tutto è perfettibile, direttore, tutto può essere migliorato. Cosa si può migliorare? Allora, tutto deve essere sempre mantenuto. Io dico, un'espressione che spesso uso è, il bicchiere deve essere sempre in mezzo vuoto, perché allora si ha la voglia di riempirlo. E la voglia di riempirlo migliorando. Migliorando è andare a migliorare la nostra personalità sul paziente, l'essere più precisi e attenti in maniera capillare, raggiungere tutti le persone che hanno bisogno in qualunque angolo della provincia nostra e oltre alla provincia nostra, perché il nostro rissocorso sconfina un po' la nostra provincia, a servizio di chi ha bisogno. Quanti interventi fate all'anno? Parliamo di rissocorso, se parliamo di rissocorso siamo all'anno intorno ai 700 interventi all'anno. globalmente la centrale operativa però processa molte più telefonate, siamo nell'ordine di 150.000, che si traducono in 73.000 missioni, cioè invio di mezzi a soccorso delle persone. Io adesso voglio capire anche un po' di lei, insomma, quando era un giovane studente di medicina, perché ha scelto questo percorso, perché ha scelto questo, io lo ripeto un po' perché è un po' una missione, insomma, il soccorso immediato è qualcosa che una persona deve sentire dentro. Ma direi che come tutte le scelte dipende un po' dagli incontri che si fanno e dalle esperienze che uno ha nella sua vita. Io ho fatto la specializzazione in chirurgia generale, ho cominciato a fare il chirurgo, però poi mi sono trovato che forse l'emergenza rispondeva di più a quella che era la mia caratteristica, il poter risolvere velocemente un problema. Ecco quindi lo spostamento verso prima tanti anni di pronto soccorso, di lavoro in pronto soccorso, e poi l'occasione sei anni fa di passare proprio all'emergenza extra ospedaliera al 118. C'è un momento che ricorda con particolari emozioni, a parte immagini, insomma, il primo effettivamente sul campo? Ma sono tante le emozioni che sono successe, perché tanti sono stati i soccorsi che abbiamo, che ho, insomma, a cui ho partecipato, a cui ho gestito. Alcuni anche tanti belli, ricordare, ad esempio, invece che parlare sempre purtroppo delle situazioni che vanno male, ad esempio ricordare i parti fatti in extra ospedaliero, questi sono sempre dei momenti di gioia, insomma, ma anche il poter proprio fisicamente dare una mano in maniera precisa alla persona che sta soffrendo in quel momento lì è sempre qualcosa di importante. Allora, faccia conto di avere di fronte a sé un giovane studente, che deve scegliere, insomma, la specializzazione da intraprendere, mi convinca, mi convinca a fare questo tipo di percorso. Ma la convinzione potrebbe venire dal uno deve sentirselo. Medicina ha tante branche, tutte di uguale importanza, questa, io dico, dà una risposta molto più rapida. I risultati si vedono subito, per cui questa potrebbe essere proprio una scelta. Chi ha passione, chi ha voglia di mettersi a servizio delle persone, chi ha anche un spirito di sacrificio, perché ovviamente il lavorare in esterno porta a lavorare quando ci sono 40 gradi, ma anche quando ce ne sono meno 5, per cui potrebbe piovere, può esserci il sole. Però ecco, questa che ha guidato me è stata proprio questa scelta qua, il dare una mano e vedere un risultato immediato, veloce, quando si mette mano al paziente. Ecco, lei prima mi diceva, c'è anche un tecnico di soccorso alpino sull'elicottero con voi, che è una figura, un'altra figura, insomma, molto importante. Diciamo che tutto il soccorso, cioè il sistema 118, si compone di tante figure, tante professionalità. Avevo citato prima le associazioni di volontariato. Se andiamo sull'elicottero, qua sono tre le componenti che salgono sopra, che è la parte aeronautica, quindi il pilota, il tecnico vericellista e il tecnico del soccorso alpino, perché è poi la parte sanitaria, ovviamente. Ma il tecnico del soccorso alpino è colui che garantisce la nostra sicurezza e quella dell'infortunato in tutte le zone impervie in cui andiamo ad operare. Chiedo l'ultima cosa, al momento voi con l'elicottero, anzi solo con l'elicottero, concludete al crepuscolo l'attività di questo mezzo. Ci sarà la possibilità, che ne so, un giorno di poter lavorare anche nella notte oppure è troppo rischioso? No, no, ci sono già realtà vicine a noi, ad esempio la Lombardia, che è già partita, non in fase sperimentale, ma in fase proprio continuativa, con due basi sulle quattro della Lombardia, che operano H24. È un progetto che anche la Regione Veneto sta cominciando a pensare, certamente porterebbe ad avere un mezzo che è molto più veloce anche solo per la centralizzazione del paziente verso un ospedale come il Confortini, che è un DEA di secondo livello, che diminuirebbe molto i tempi. Per cui questo ci stiamo pensando, sono scelte regionali che devono essere fatte, però la sicurezza viene garantita, ovviamente. Bene, insomma, io faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Adriano Valerio, lo ricordo, il nuovo direttore del 118, una bellissima realtà, ve l'abbiamo raccontata, ci sarebbe veramente da parlare per delle ore, magari avremo occasione per poterlo fare. Ancora grazie e complimenti, grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è con le prossime edizioni di Medicina Oggi, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti.